Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Keshan 320X195. Questi tappeti sono annodati nel Persia centrale, sono di alta qualità e spesso hanno un motivo a medaglione su campo fiorito, ma possono esserci variazioni. Il motivo dei tappeti Keshan è usato spesso come originale per la produzione industriale di tappeti. I tappeti Keshan fanno bella mostra di sé nelle principali case reali europee. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa 10 mm. Pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie a tutti.